Connergia vi presenta la nuova soluzione per il residenziale con l'invert ibrido Solis e le batterie LG. Oggi siamo in Connergia e presentiamo l'invert ibrido S5 da 3 a 6 kW con batterie LG Resu. L'inverter si presenta con due inseguitori, uno da 15A ed è presente una porta di backup da 5 kW per supportare i carichi privilegiati. L'inverter è dotato di protezione arc-fold attivabile e da scariche atmosferiche sia sul lato di CAC e integra molteplici modalità di lavoro per massimizzare l'autoconsumo. Il prodotto è conforme e compatibile con moltissime batterie, oggi lo presentiamo con LG Resu. La batteria Resu a 48V di LG Energy Solution, compatibile con gli inverter Solis, è disponibile in due taglie, da 10 kW e da 12 kW. Oggi vediamo come installare la batteria a 10 kWh con l'inverter. La batteria Resu a 48V di LG Energy Solution, compatibile con l'inverter. La batteria Resu a 48V di LG Energy Solution, compatibile con l'inverter. L'inverter è configurabile a display grazie a pochi semplici passaggi. La batteria Resu a 48V Avorare la batteria very little ifrò qu'inverter. Avorare la batteria a 10 kW. La batteria Resu a 46V di LG Energy Solution l'inverter. Grazie a tutti.